Le zone rosse degretate in sei comuni siciliani rischiano di essere il colpo di grazia per molti esercizi commerciali. È il grido d'allarme della Conf Commercio che chiede al Governo regionale di poter mantenere aperte le attività, limitando però l'ingresso a chi è in possesso del Green Pass. Sono in zona rossa due comuni della provincia di Egrigento, Favara e Caltabellotta, domenica scorsa anche Gela, oltre a Riesi, Mazzarino e Piazza Armenina. Ma stretto giro di ruota potrebbero seguire Porto Empedocle e Palma di Montechiaro. Siamo preoccupati, dice il Presidente regionale di Conf Commercio Sicilia Gianluca Manenti, per le restrizioni che ne conseguono e che impediscono al mondo del commercio, al dettaglio e alla ristorazione di poter continuare ad operare, in quello che doveva essere il momento caratterizzato da un po' di luce dopo mesi di buio. Vogliamo scongiurare ulteriori danni ai nostri associati, dovuti alle chiusure forzate che la zona rossa impone. Per questo motivo chiediamo al Governo regionale di predisporre all'utilizzo del Green Pass a tutte le tipologie di attività commerciali presenti nella zona rossa, che così potrebbero continuare a operare. Tutto ciò, come ci viene sollecitato dagli operatori dei territori interessati, permetterebbe di evitare nuove chiusure alle attività economiche. Nelle zone rosse il provvedimento andrebbe previsto ed esteso anche ai trasporti a lunga percorrenza. E da favare i commercianti invocano addirittura la sospensione della zona rossa. Chiediamo, dicono, un intervento del Presidente della regione siciliana, affinché sospenda la zona rossa in attesa di conoscere i nuovi parametri da parte del Ministero della Salute. E intanto sembra essersi scatenato l'effetto Green Pass. Tornano le fine negli hub, riparte la campagna di vaccinazioni. Da tempo non si vedevano più persone in attesa. In tanti hanno deciso di vaccinarsi, proprio per ottenere la certificazione verde. E tornano anche gli Open Day.